numero 5 si tratta di un modello di manubrio sicuro al 100% realizzato interamente in ferro massiccio menmano che si procede si ha la possibilità di aumentare il peso attraverso un sistema graduale di dischi che non aumentano le dimensioni del manubrio sono realizzati con materiali selezionati con la massima cura privi di ftalato e piombo il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 4 i nuovi manubri boflex selectek 560 intelligenti offrono un'esperienza completamente interattiva per aiutarvi nei vostri allenamenti sportivi intensi sono dotati di un sensore elettronico integrato nei manubri chiamato 3dt e ti permette di accompagnarti durante l'allenamento come un allenatore personale può fare per te puoi visualizzare i tuoi dati di allenamento utilizzando lo schermo sui manubri o sull'app gratuita 3dt collegata con l'accesso a 70 video di coaching se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 permette un allenamento completo che si sente in ogni muscolo del vostro corpo offre maniglie coniche e supporti per il polso con un design più aperto che fornisce una cavità più grande nel manico l'innovativo sistema di click permette di selezionare il peso corretto in base al suo esercizio scelto puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 vi fornisce un allenamento completo che si sente in ogni muscolo del vostro corpo offre maniglie coniche e supporti per il polso con un design più aperto che fornisce una cavità più grande nel manico è inoltre dotato di un sistema di blocco del quadrante integrato nella maniglia in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 1 i pesi boflex regolabili consentono di modificare la resistenza da 2 kg a 24 kg in questo modo si ottimizza lo spazio della casa poiché solo questo modello può soddisfare i requisiti di 30 manubri sono inoltre coperti da una garanzia di due anni se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione